I musicisti Raffaello Pilato e Aldo Traverso al violino, Marco Traverso alla viola ed Emanuela Mosa al violoncello saliranno sul palco del Teatro Regina Margherita lunedì 20 febbraio. Il Quartetto d'Archi sarà il protagonista del concerto, a partire dalle ore 19, organizzato in collaborazione con il Conservatorio di Stato Vincenzo Bellini, dal titolo Mozart, il piacere della musica, e che rientra tra i lunedì del Bellini, all'interno della stagione musicale promossa dal Comune, Svelamenti. Il concerto sarà un omaggio al musicista austriaco Mozart. La musica è un dono che desideriamo possa arrivare a più persone possibili, spiega Michele Mosa, il direttore del Bellini, senza alcuna limitazione. Anche per questo motivo, in linea con l'amministrazione comunale, l'ingresso ai concerti è gratuito. Mozart, aggiunge, ci ha regalato un repertorio vastissimo, che varia molto tra stili e tipi di musica, e le melodie più belle verranno eseguite da un Quartetto d'Archi di altissimo livello. Interviene anche l'assessore Marcello Natale. Assisterà a questi splendidi concerti, in più nella prestigiosa cornice del Teatro Regina Margherita, rappresenta una splendida occasione di arricchimento culturale e personale, non solo per gli appassionati di musica classica, sottolinea. Invitiamo quindi tutti i cittadini del territorio a venire e vivere il teatro, la musica, la prosa e l'arte in tutte le sue forme.